Maria Carla Indice, responsabile del settore Università Yule Form. Parliamo di poli universitari e di opportunità per evidenziare la convenzione che è stata stipulata con il Comune di Capaccio Pestum. È stato per noi veramente un piacere stipulare questa convenzione. La Yule Form nasce proprio come settore universitario di un'azienda che già opera sul territorio da tanti anni, che è la SGE Form. Abbiamo deciso di allargare quindi e di diventare anche polo universitario delle università telematiche. E proprio da questo abbiamo preso spunto per aprire questa convenzione che riguarda non solo in primis i dipendenti del Comune di Capaccio Pestum, ma anche le loro famiglie. Grazie a questa convenzione infatti potranno iscriversi all'università con prezzi agevolati. Noi ci occupiamo non solo di corsi di laurea, ma tutto quello che riguarda il mondo universitario, quindi da master, corsi di perfezionamento, tutto quello che riguarda anche il mondo della scuola, dei docenti. E puntiamo moltissimo su queste università telematiche perché vanno incontro alle esigenze oggi di un numero sempre più crescente di persone, poiché gli impegni lavorativi, gli impegni familiari tengono spesso le persone particolarmente impegnate, mentre l'università telematica risponde alle esigenze anche di chi magari non può spostarsi per seguire i corsi per motivi di lavoro, in quanto i corsi sono online, quindi fruibili da chiunque in qualsiasi momento della giornata, nei festivi, nelle ore serali. Va incontro anche alle esigenze, ad esempio, di chi fa sport, quindi non dobbiamo pensare soltanto a chi lavora, a chi ha famiglia. Ci si può iscrivere poi in qualsiasi momento, quindi è una scelta ponderata che si può fare tranquillamente, non è detto che l'inizio dell'anno accademico classico, che solitamente è settembre, ma ci si può iscrivere sempre, quando la persona lo desidera, anche se si hanno magari lasciato gli studi da tanto tempo, quindi non bisogna essere per forza neodiplomati per iscriversi alla telematica. Noi abbiamo più di 60 percorsi di laurea, abbiamo i classici ovviamente che vanno da giurisprudenza, economia, lettere, ingegneria, fino a percorsi di laurea molto più di nicchia, se così possiamo dire. Abbiamo ad esempio il corso di enogastronomia, che è molto richiesto nel nostro territorio, scienze del turismo, scienze della nutrizione, scienze biologiche, scienze motorie. Insomma, veramente rispondiamo alle esigenze di chiunque decida di intraprendere il percorso universitario. Quattro sono le università a cui facciamo riferimento e sono l'Università Telematica e Campus, l'Università Guglielmo Marconi, l'Uni Mercatorum e il San Raffaele di Roma. Gli esami, fino a quando il MIUR non darà disposizione diversa, resteranno in modalità online, con la possibilità dello studente di scegliere in realtà se farli online o se farli in sede. Poi immaginiamo che ritorneranno, insomma, come sono sempre stati, e cioè in presenza. Noi siamo sede universitaria, noi abbiamo varie sedi. La sede di Capaccio è la sede universitaria dell'Università Guglielmo Marconi, mentre la sede di Vallo della Lucania è sede degli esami di eCampus. Noi offriamo allo studente due tipi di tutor. Il tutor amministrativo, quindi, che lo segue dall'inizio alla fine per quanto riguarda la parte burocratica, dal disbrigo delle pratiche, dalla prenotazione agli esami, dallo spiegare come funziona la piattaforma online. E in più offriamo anche il servizio di tutor didattico, che viene attivato solo se lo studente ne dovesse far richiesta, quindi come aiuto nello studio per una materia particolare, magari un po' più ossica rispetto a un'altra. E anche importante è il fatto che è possibile iscriversi a qualsiasi corso di laurea senza dover sostenere nessun test d'ingresso, quindi ad accesso libero.